L'Istituto Tecnico Aeronautico Santa Maria è l'unico in Italia in grado di far conseguire agli studenti sia la licenza di pilota di linea, di aeroplano o di elicottero, sia un attestato utile per quella di manutentore aeronautico. In base alla convenzione con la scuola di volo Aviomar, Aeroporto Roma-Urbe, il corso di studi per il diploma è riconosciuto dall'ENAC, Ente Nazionale Aviazione Civile, come corso teorico per la licenza di pilota di linea. Gli studenti svolgono solo il corso di addestramento pratico al pilotaggio presso l'Aviomar, con condizioni economiche molto favorevoli. Inoltre l'Istituto Tecnico Aeronautico Santa Maria, contemporaneamente al diploma, è certificato dall'ENAC per il rilascio ai propri studenti dell'attestato di 5 moduli istruzionali che fanno parte dei corsi di manutentore aeronautico. Grazie a tutti!